ben tornato a dottor gabriele benedetti saluto anche tuo papà signor stefano benvenuto al mio medico perché oggi noi parleremo con il dottor benedetti di artrosi in realtà di dolori articolari che possono essere trattati anche grazie all'osteopatia e questo è importante perché sono 5 milioni italiani che soffrono di questo dolore articolare prima di pensare a qualsiasi intervento chirurgico passiamo alle come dire terapie conservative allora iniziamo subito a capire che cosa succede al nostro corpo quando soffriamo di questi dolori di artrosi in quale zone principalmente sono collocati questi dolori ti dico subito monica che sono emozionato perché oggi sono il dottor benedetti in versione junior ma c'è il professor benedetti quindi sono davvero emozionato allora noi quando parliamo di artrosi parliamo di degenerazione ossea significa che normalmente quando le nostre ossa funzionano noi abbiamo una fisiologia dell'osso dove nei punti dove riceviamo maggior carico quindi in particolare la nostra colonna l'anca quindi dove abbiamo il femore e il ginocchio quindi dove c'è più carico proprio di gravità noi in questi punti richiamiamo più calcio quindi l'osso si va a rafforzare per ovviamente resistere al carico che riceve questo quando tutto funziona quando invece a causa per esempio della del sovrappeso oppure ad esempio di situazioni di anzianità che cosa succede purtroppo si va ad alterare questa situazione di rigenerazione ossea che siamo proprio rimaneggiamento osseo ovvero il calcio viene richiamato noi lo assorbiamo bene e tutto funziona si altera questo processo fisiologico e avviene la degenerazione quindi con l'artrosi l'artrosi che cosa fa modifica l'articolazione quindi la va a deformare si creano dei depositi di calcio lontano quindi dall'osso si creano il livello dell'articolazione e questo che cosa fa porta dolore spesso ci sono delle stalattiti di calcio che sono proprio delle calcificazioni si chiamano osteofiti da qui anche l'osteofitosi e qui se ovviamente poi dopo quando tutti vai a muovere nell'articolazione sono dei spuntoncini che danno dolore quando il paziente ha dolore che cosa fa ovviamente non ci carica sopra non si muove e piano piano si va a irrigidire tutta l'articolazione questo irrigidimento porta la perdita di funzionalità quindi l'artrosi è una degenerazione una perdita di funzionalità e poi anche purtroppo dolore io ho detto che l'osteopatia ci può aiutare prima di fare tutti i trattamenti chirurgici quando c'è necessità di mettere la protesi bisogna mettere la protesi non c'è niente da fare però prima di arrivare a tanto l'osteopatia ci può aiutare vi faremo vedere in diretta alcuni trattamenti subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria restate con noi non vi muovete stiamo parlando di artrosi lo stiamo facendo con il dottor Gabriele Benedetti io saluto anche un'altra volta il papà del dottor Benedetti signor Stefano che qui con noi proprio per far vedere in diretta quali sono i trattamenti proprio per contrastare l'artrosi il dottor Benedetti ci ha detto che le zone più colpite sono la colonna le anche il ginocchio adesso allora andiamo a vedere i trattamenti partiamo proprio dalla colonna prima di fare trattamenti bisogna fare un test se non sbaglio assolutamente sì quando ne abbiamo problematiche di artrosi si va a ridurre quello che è il range articolare ovvero l'ampiezza di movimento dell'articolazione significa che se c'è per esempio sulla colonna cervicale la parte più alta della colonna il paziente avrà difficoltà a rotare il collo perché sente rigidità questo è il primo segno e sintomo che noi abbiamo quando c'è problematica appunto di artrosi in questo caso alla cervicale e quindi la colonna che cosa succede il test è molto semplice io vado a muovere il paziente il paziente inizierà a dirmi io qui sento blocco non riesco ad andare perché mi sento con qualcosa che mi impedisce il movimento e allo stesso tempo sento anche dolore magari perché c'è il famoso osteofita che va a comprimere i tessuti molli il test è molto semplice percepiscono la riduzione di movimento e allo stesso tempo quindi mi occupo già di fare il mio primo trattamento sulla colonna ti faccio vedere una cosa interessante trattamento in realtà di solito quando si parla di artrosi ogni test si avvicina molto al trattamento perché dove l'articolazione non va noi piano piano la mandiamo quindi diciamo una sorta di test conseguente poi ovviamente riceve un trattamento qui ho due vertebre che in questo caso sono proprio due vertebre cervicali e che cosa succede quando tutto funziona loro riescono vedi ad articolarsi in maniera molto pulita quindi riescono a muoversi molto bene quando purtroppo si crea la calcificazione artrosica si incastrano quindi non è il semplice sblocco che io faccio a livello osteopatico sempre classico il paziente giovane dove sblocco e basta dove sente lo scrocchietto ma in questo caso oltre a sbloccare l'articolazione devo purtroppo rompere la calcificazione quindi l'artrosi e in questo caso quindi devo fare uno sblocco per impedire questo processo che si sta vediamo diffusione vertebrale è pronto è prontissimo eccolo qui lo vediamo subito morbido morbido e rilassato bravo perfetto molto bene la tecnica delicatissima bravo morbido bravo aspetta solo un attimo che faccio anche l'altro lato perché almeno tratto tutto morbido morbido bravo fatto si fa un po impressione allora sente allora iniziamo subito a chiarire sente dolore il paziente assolutamente non c'è dolore il range precisissimo la cosa fantastica che tutti i pazienti ovviamente si sorprendono e che come hai visto io sono andato sul punto di blocco ma poi l'ho completamente bypassato quindi significa che il paziente in un attimo riesce a recuperare i movimenti che non faceva da anni e ho interrotto soprattutto questa calcificazione che si crea un processo di fusione vertebrale perché normalmente sai come si chiamano queste fusioni vertebrali sono proprio li chiamiamo noi dei becchi di pappagallo nella nella lastra nella risuona o meglio proprio nell'rx noi vediamo proprio che si creano questi osteofiti che sono dei becchi a pappagallo ne cresce uno dall'alto ne cresce uno dal basso e per cui si si attaccano e creano la fusione a ponte che è quella che io devo andare a rompere per poter rimuovere allora facciamo subito allora il trattamento per la colonna mi vuoi passare il piede ti passo un pezzo di giorni che tanto noi lo sai io sono adibito qui a smontare i pazienti ma poi li rimontiamo quindi tranquilla capita ogni tanto che ti passo un ginocchio qualcosa allora che cosa vado a fare in questo caso la parte della schiena più bassa rispetto alla cervicale è molto meno mobile quindi riceve molto più carico e tende a bloccarsi ancora diciamo di più rispetto alla parte alta tu ti rilassi completamente qui il test è pratico nel senso che io vedi cosa faccio mi rendo conto che il paziente qui è rigido non riesce a muoversi normalmente un paziente che artrosi sulla colonna è molto limitato nei movimenti allora io che cosa faccio con calma lo vado a girare piano piano ecco qua prendo il punto che mi interessa in questo caso sono le vertebre lombari tutti i rilassi completamente di soldi pazienti anziani hanno paura di cadere invece non c'è nessun problema quindi non sempre rilassarsi e vado a fare la mia tecnica eccolo qua questa è una seduta anche in questo caso il paziente non sente dolore no non c'è mai dolore nessuna tecnica importante sì perché il momento in cui si rompe la calcificazione artrosica non c'è magari in quel momento sia un po di fastidio ma non dolore questo è importante sottolinearlo e di quante sedute abbiamo bisogno a gabriele per fare questo approccio sull'artrosi mi basta una sola seduta perché io dal punto di vista proprio osteopatico vado a sbloccare l'articolazione poi ho sempre i miei assistenti fisioterapisti che cosa fanno loro vanno invece a fare tutto un lavoro legato al muscolo perché che cosa succede mentre io ho un blocco dell'articolazione di cui mi occupo io il fisioterapista va a fare la parte muscolare perché è normale che un collo che non si è mai mosso a un muscolo retratto noi allunghiamo e completiamo quindi il nostro tutto il trattamento la passiamo all'altra articolazione che viene colpita troppo spesso dall'artrosi che sono le anche allora anche in questo caso bisogna fare qualche test sull'anca questo è un test invece molto conosciuto che è un test ortopedico dove io che cosa faccio vado a stressare leggermente l'articolazione dell'anca e chiedo al paziente dove avverte il dolore in questo caso in dove lo sente il dolore perfetto all'inguine non significa ancora che il test sia positivo cioè non è detto che ci sia artrosi è normale che se io vado a tirare gli adduttori sente un tiraggio sul muscolo quindi tutto normale se invece il paziente riferisce un dolore trocanterico quindi nella parte esterna dell'anca questo potrebbe essere un test positivo per una problematica di artrosi all'anca ripetiamo se sentiamo un dolore all'inguine non ci dobbiamo preoccupare è normale perché stiamo al muscolo aduttore se un dolore dietro dietro è vicino al gluteo diciamo laterale proprio laterale allora lì il campanellino esatto perché poi ovviamente gravi situazioni di cox artrosi quindi artrosi all'anca possono addirittura portare alla protesi d'anca quindi è fondamentale intervenire prima possibile dolore posteriore potrebbe essere legato al famoso piriforme te lo ricordi che spesso lo trovavamo come muscolo interessante no come la sciatalgia e spesso sono diciamo situazioni che combaciano esatto qui per esempio la il tratte diciamo il test è questo ma il trattamento anche diventa questo perché io che cosa faccio vado gradatamente a sforzare l'articolazione in diciamo in una sola volta vado a prendere che cosa sia il muscolo che allungo si ovviamente sblocco la parte che invece è rigida e si è artrosizzata questo un pochino di dolore lo può dare perché ovviamente andiamo a muovere un articolazione molto grande che spesso appunto a queste rigidità enormi e poi invece c'è un test o meglio un trattamento che noi facciamo subito a pancia in giù questa è una ad ogni età si può fare questo trattamento assolutamente sì l'artrosi comincia spesso anche intorno ai 40 anni ad affacciarsi poi a 50 anni 60 anni comincia ad essere conclamata e poi ovviamente le situazioni più gravi le vediamo intorno ai 70 80 anni prima iniziamo e meglio è questo caso un paziente papà 70 anni quindi già ti fa capire che ha situazioni di artrosi anche un pochino avanzate si ricorda benissimo io pensavo di meno perché oggi l'età no no valla grande allora qui ti tieni un attimino all'angoletto tieniti bene se no andiamo di là io e te lettino quindi mi raccomando facciamo le cose fatte bene allora qui che cosa faccio vedi monica vado a trazionare tecnicamente una decoaptazione dell'anca dove farò il famoso sblocco per decalcificare quindi mi preparo ed eccolo qui faccio uno sblocco diretto il famoso traste il famoso scrocchio e sblocchiamo l'anca allora questo allora pancia in su sì allora facciamo vedere subito il ginocchio perché abbiamo visto questo trattamento per l'anca di passi e ti ripassi il ginocchio l'altra articolazione tantissime sono le telefonate no che ci chiedono esattamente di come intervenire proprio per chi soffre di artrosi al ginocchio ci sono dei trattamenti quali sono assolutamente sì con artrosi significa quindi artrosi del ginocchio ci sono tre fasi fondamentali da sapere la prima è quella in cui si gonfia il ginocchio che spesso è una reazione di infiammazione che la sinovite quindi si crea liquido l'ultimo grido diciamo di battaglia del ginocchio perché poi si riassorbe questo liquido parte il problema di condropatia quindi infiammazione del secondo livello che sono le cartilagini dopodiché purtroppo arriva l'artrosi del ginocchio dove invece si comincia a deformare in questo caso vedi il piatto tibiale e allora non si riesce più a muovere il ginocchio anche in questo caso bisogna intervenire prima possibile prima possibile quindi già alla prima fase e nel caso del ginocchio che cosa succede un ginocchio artrosico ha un segno che si vede immediato si dice che aumenta il diametro dell'articolazione di solito vedi anche delle signore che hanno dei polsi molto piccoli molto magre poi a un certo punto hanno un ginocchio che è larghissimo quindi ha un diametro molto largo questo perché comincia a deformarsi che cosa facciamo se l'articolazione si deforma prima che diventi completamente rigida io ovviamente la vado a testare vedo che purtroppo più di qua non può andare e io piano piano la vado a chiudere ovviamente questo è molto doloroso perché va a tirare dei muscoli che non vengono tirati da anni ma soprattutto va a smuovere tutta quella che l'articolazione arrugginita come gli ingranaggi di un orologio che ormai purtroppo in questo caso si sente dolore perché soffre questo si sente dolore nei in alcuni pazienti dove per esempio papà è stato già trattato perché ovviamente non l'ho abbandonato a casa quindi già l'ho trattato sul ginocchio che cosa faccio in questi casi quando finalmente si arriva già la fase finale si può addirittura fare uno scrocchio cioè uno sblocco sul ginocchio tu rilassati completamente faccio questo morbido morbido e faccio lo sblocco che semplicemente significa quindi arrivare finalmente al massimo dell'ampiezza articolare poi posso permettere addirittura di sbloccare perfino il ginocchio questo è importante abbiamo detto che comunque la fisioterapia deve accompagnare questo percorso di questi trattamenti è vero sì e per quanto tempo anche in questo caso di quanti trattamenti se soffriamo di artrosi al ginocchio quanti trattamenti dobbiamo fare allora più o meno ci vogliono circa 3 o 4 sedute belle intense e intensive quindi da fare subito nel giro di un mese quindi diciamo una volta a settimana volendo anche due volte a settimana esagerando più andiamo a tirare più il ginocchio andrà a sbloccarsi momento in cui il caso più grave ci fosse proprio un ginocchio completamente rigido in quel caso anche lì purtroppo si procede con la protesi del ginocchio quindi prima si interviene meglio meglio è grazie al dottor gabriele benedetti grazie ovviamente grazie al signor stefano benedetti grazie per essere stato con noi grazie al signor stefano benedetti grazie al signor stefano benedetti grazie a tutti